Otto di Coppe continua ad agire, anche nei giorni scorsi in patti è stata ripulita un'altra piccola area verde cittadina. E' cominciata tutto da uno sfogo sui social da parte di Sara Cannizzaro che si è trasformato poi in azioni concrete, dato che l'appello è stato accolto da alcune ragazze. Dal primo intervento si sono aggiunte sempre più persone che volontariamente dedicano il proprio tempo alla città e uniscono le forze, l'insegna della buona volontà e senso civico, per liberare dai rifiuti gettati per terra, parchi, ville e non solo, angoli cittadini che vengono individuati di volta in volta. Alla teoria delle parole scritte attraverso la tastiera di pitch e smartphone, dunque, si contrappone la pratica che dona un volto nuovo alle aree cittadine che vengono ripulite. La prima volta siamo andate in quattro a pulire il parchetto della legalità a San Luca, dove abbiamo raccolto praticamente di tutto. Durante la raccolta ho trovato in mazzoncio e spuglio una carta siciliana rappresentante una donna di coppe, un otto di coppe, ed è da lì che nasce il nome perché ci è sembrato un po' provvidenziale. Poi abbiamo pubblicizzato un po' su Facebook questa cosa nella speranza che qualcuno si unisse a noi e questo si è realizzato. Adesso abbiamo un gruppo formato da circa 35 persone. Il progetto è partito poco meno di un mese fa, abbiamo già fatto diversi appuntamenti. Siamo contenti di quello che sta nascendo, ma siamo davvero demoralizzati per quanto riguarda la pochissima civiltà che c'è nella nostra città. La nostra non vuole essere una lamentela nei confronti delle istituzioni, ma un atto concreto di volontariato e attivismo nei confronti della nostra città. L'unica cosa che mi permetterei di chiedere gentilmente alle istituzioni, anzi non l'unica cosa, chiederei due o tre cose. La più importante di tutte credo che sia mettere dei controlli rigidi in giro per la città. La seconda richiesta che facciamo alle istituzioni è quella di aumentare la presenza di cestini della differenziata in giro per la città e di imporre regole più rigide sulla differenziata. Ero stanca ogni volta che uscivo con la mia cagnolina per farla passeggiare, di vedere ogni aiuola della nostra città devastata da lattine, bicchieri, carte, cicche di sigarette. Ho sempre pensato con mia sorella di poter portare con me un sacco e raccogliere tutte queste immondizie dalle strade. Poi ho risposto allo sfogo di Sara sui social e da lì abbiamo cominciato, piano piano, in realtà eravamo quattro inizialmente, a ripulire ogni zona della nostra città. Adesso il progetto comunque si è ingrandito veramente in maniera esponenziale e speriamo che possa sensibilizzare il resto della città e cercare di tenere più pulito l'ambiente in cui viviamo. Invito le persone che non gradiscono vedere la spazzatura ovunque, in giro, per terra, per la città, a fare lo stesso, fare quello che stiamo facendo noi. Prendere dei guanti, dei sacchi di plastica e ripulire, dando il buon esempio. Se non possono iniziare a noi, formare un altro gruppo o comunque cominciando in solitario e poi vedrete che altre persone coscienziose e che amano la città, amano la città pulita, si usuniranno anche a voi. Ripeto, non bisogna vergognarsi se si fa del bene, bisogna vergognarsi se si fa del male o se si sta fermi a guardare e non fare niente. Io naspargo.